Allora, avevamo detto che questa funzione qua, phi di x, cioè la distanza di un punto x da c, dove c è un chiuso, deve essere continua. In realtà io posso addirittura dimostrare che è l'ipciziano, perché questo è un esercizio, quindi non ci scrivo neanche l'eroma, la preposizione, niente, perché? Prendiamo due punti, x, y, e c. Allora, la distanza di x da c è chiaramente il minore o uguale della distanza di x da y più la distanza di x da c. No? Perché la distanza di y da c è realizzata in un punto di c, diciamo tra x e un punto di c, allora applicando la sicurezza triangolare da questi tre punti, la distanza di questo da questo è minore o uguale alla distanza di questo da questo e la distanza di questo da questo. Siccome questo è il minimo, ottenete questa disurdenanza. Allo stesso modo, la distanza di y da c è il minore o uguale alla distanza di y da x che è uguale alla distanza di x da y più la distanza di x da c. Quindi, a questo punto, che cosa ottenete? Che la distanza di x da c meno la distanza di y da c è minore della distanza di x da y minore o uguale, è il maggiore o uguale di meno la distanza di x da y. Quindi, questo che vuol dire? Vuol dire che il valore assoluto di phi di x meno phi di y è minore o uguale alla distanza di x da y. che vuol dire che questa funzione è lipciziana, di costante lipciz. Se vi ricordate, abbiamo visto in analisi 2 che le funzioni lipciziane sono 2 e questa è lipciziana, addirittura è di costante lipciz, scusa. Ok, quindi, questo è così, non ci piove. Adesso veniamo all'enunciato quello importante. Adesso noi abbiamo un'unione numerabile di insieme misurabile a 2 a 2 risgiunti. Questi sono tutti misurabili a 2 a 2 risgiunti. L'unica cosa che supponiamo per adesso è che sia limitata. Allora, l'unione è misurabile e la misura dell'unione come si fa? Facendo la soluzione della stessa delle misure, cioè la parambola di un'unica. Ok? Dobbiamo dimostrare questa cosa. tenete conto che se l'unione è limitata in particolare tutti I con N sono contenuti in E e quindi sono tutti limitati. Quindi, essendo limitati hanno misura finita. Questo è banale. E se sono limitati da uno stesso contenuti in un compatto, tutti i compatti diciamo la parte interna è un aperto e contenere l'insieme la chiusura è un compatto e contenere l'insieme è limitato. E allora, se andate a fare sia l'estremo superiore delle misure compatti contenuti che l'estremo inferiore delle misure aperte contenuti entrambi evidenti. Ok. Allora, dimostrazione. io fisso un'epsilon maggiore di zero allora io che cosa so? So che per ogni N esiste un compatto KN contenuto in E con N contenuto in A con N tale che appunto KN è compatto poi A con N è aperto poi che la misura di KN è maggiore della misura di E con N meno E fratto frattura da N e la misura di A con N è minore della misura di A E con N più E fratto frattura da N bisogna dimendiamo di seguire un altro risultato adesso lo do per scontato lo dimostriamo perché ci sono ancora due o tre cose da dire le finiamo di mostrarla la prossima volta perché altrimenti sporiamo l'orario comunque il risultato che mi servirà lo dirò esattamente allora io adesso cosa vado a prendere io so che la misura di E a in particolare questa qui è anche finita questa qua è finita per quale motivo è finita sempre per il fatto che l'unione è limitata ok anche questo lo specifico meglio la prossima adesso cerchiamo di capire l'idea di questo terreno allora questa misura risulta finita questo lo spiego nel dettaglio la prossima e poi quello che mi serve che mi sono dimenticato di dimostrare che se prendo adesso l'unione per n che va da 1 a infinito degli a con n la misura n dimensionale di a è minore uguale della somma della serie delle misure degli a con n io questo l'ho dimostrato solo per 2 non per un numero non per una successora ok quindi questo qua lo debito lo vogliamo la prossima ma questo a sua volta è minore o uguale della somma per n che va da 1 a infinito della misura n dimensionale di e con n più epsilon su 2 alla n che è minore o uguale della somma per n che va da 1 a infinito della misura n dimensionale di e con n più epsilon fuori della serie perché la somma di epsilon su 2 e fa epsilon ok modulo questo risultato questo mi dimostra che la questa a sua volta è maggiore o uguale alla misura n dimensionale di e ok dal basso invece non mi serve un risultato simile perché allora innanzitutto io so che allora questa numero qua lo chiamo lambda allora so che esiste un indice n poiché questa somma è finita so che esiste un indice n tale che la somma per n che va da 1 a n della misura n dimensionale di e con n è maggiore di lambda meno epsilon cioè chi è la somma della serie il limite della successione delle somme parziali da un certo punto in poi siccome questa è una serie a termine segno non negativa è monotona non decrescente quindi da un certo punto in poi la somma parziale deve essere maggiore di lambda meno s ma la somma chi va da prendere adesso come k il mio k è l'unione per n che va da 1 a n della misura scusate di kn ok kn sono convenuti di e con n n va da 1 a n quindi sono un numero finito 2 un numero finito è la stessa cosa quindi la misura di questa è la somma delle misure di questa è maggiore o uguale alla somma delle misure quindi la misura n dimensionale di k è maggiore o uguale della misura n dimensionale della unione della somma per n che va da 1 a n della misura n dimensionale di kn e quindi questo è maggiore o uguale della somma per n che va da 1 a n della misura n dimensionale di e con n meno e se non sottoprata n questo è maggiore di il primo pezzo è maggiore di lambda meno e il secondo pezzo lo posso minorare ulteriormente con la somma fino a infinito perché sono tutti numeri negativi che la somma fino a infinito fa e o meno davanti meno e quindi questo poi viene lambda meno 2 e quindi cosa avete dimostrato che avete trovato un aperto contenente e con n è un aperto contenente e e un compatto contenuto in e tale che la misura dell'aperto è minore di questo numero più e la misura del compatto è maggiore di questo numero meno 2 e ma non è costante 2 per la vitalità di y segue che l'estremo superiore delle misure dei compatti contenuti è uguale all'estremo inferiore delle misure degli aperti contenuti e quindi abbiamo la numerabile additività modulo questi due cose che dobbiamo andare a fare la prossima volta perché sicuramente non c'è tempo 8 minuti non sono abbastanza invece voglio in 5 minuti così vi do 2-3 minuti per spostarvi dall'altra parte voglio fare un attimo di riassunto di quello che abbiamo fatto prima abbiamo fatto la linea in generale della misura almeno gli aspetti più elementari e questa ci è servita soprattutto per arrivare la misura è una funzione di insieme numerabilmente additiva questo può essere dove si deve andare a calcolare sugli elementi di una sigma algebra perché perché così altrimenti poi vedremo se possono essere problemi quindi insieme si immagina famiglia di sotto insieme con una certa proprietà misura se ho una misura qualunque essa sia posso fare una teoria elementare posso vedere che la misura passa alle misure su successioni crescenti insieme su successioni crescenti insieme a fatto che un insieme sia di misura finita posso vedere il tema di Peppolè posso costruire le funzioni misurabili non mi devo preoccupare se il limite dei puntuali di una successione di funzioni misurabili è misurabile perché lo ha automaticamente posso andare a vedere il tema di Peppolè il tema di Fatura il tema di Comunicazione di Comunicazione di Comunicazione ho tutte queste belle proprietà il problema è trovarne una che vada bene rispetto alla lunghezza all'area e al voluto in R2 R3 allora come si fa? si definiscono più in generale in Rn la misura degli intervalli come prodotto la misura dei lati i pluri intervalli sono unione di blocchi risgiunti li posso rappresentare unione di blocchi risgiunti la misura è la somma delle misure degli intervalli a due a due risgiunti che mi danno i pluri intervalli poi invece di approssimare come avremmo fatto diciamo come avremmo fatto se avessimo seguito la teoria di Riemann dall'esterno e dall'interno con i pluri intervalli abbiamo fatto due passaggi primo passaggio definire la misura degli aperti e dei compatti in due modi apparentemente diversi cioè la misura degli aperti è l'estremo superiore alla misura dei più intervalli contenuti della misura dei compatti e l'estremo inferiore alla misura dei più intervalli contenenti e poi abbiamo approssimato e un insieme generico da fuori con gli aperti e da dentro con i compatti se l'estremo superiore delle misure dei compatti contenuti concidevo con l'estremo inferiore alle misure dei tempi contenenti dicevamo diciamo che l'insieme è misurabile almeno se è limitato che abbiamo fatto vedere oggi che quelle due definizioni ci volevano per forza e poi abbiamo fatto vedere che con le definizioni la definizione generica per un insieme di misura fatta in questo modo almeno se è limitato effettivamente modulo qualche cosina ancora che dobbiamo aggiustare o vedere effettivamente questa qui è una misura cioè è numerabilmente additiva questa si chiama la misura di Lebeck n dimensionale su R che per n uguale a 1 è la lunghezza per n uguale a 2 è l'area per n uguale a 3 è il voluto ok? detto questo dobbiamo diciamo pagare qualche debito in 10 minuti la volta prossima poi dobbiamo far capire perché per gli insiemi non limitati ci vuole una definizione a parte diamo questa definizione a parte non rifacciamo tutti i discorsi un'altra volta perché sarebbero inutilmente diciamo a quel punto sarebbero veramente tediosi ma aggiungerebbero poco alle idee che abbiamo già visto però dobbiamo fare capire perché ci vuole quella definizione a parte perché se no ci sono dei problemi una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo ancora far vedere che ci sono insiemi che non saranno misurabili secondo le Becker daremo un esempio di insiemi non misurabili secondo le Becker e dopodiché dobbiamo andare a capire invece come si fa materialmente l'integrale secondo le Becker in R2 per esempio ok se ho una funzione da R2 in R è misurabile come si fa l'integrale? allora per capire questo ci mancherà ancora un pezzo che sarà diciamo la misura degli spazi prodotto e soprattutto le formule di riduzione diciamo le formule di riduzione però prima di arrivare a quello faremo diciamo una congrua serie di esercizi già su questa prima parte perché è già finito questa prima parte possiamo fare una congrua serie di esercizi applicando per esempio il noi sappiamo sviluppare le funzioni per serie funzioni in una variabile sappiamo svilupparle sia in serie di Taylor che in serie di Fourier a seconda delle ipotesi e quindi possiamo per esempio tanti integrali di funzioni di una variabile fare per serie no? quando io vado a scrivere solo questo esempio che io poi mi faccio andare via se io devo scrivere l'integrale tra a e b di e la meno x quadro in dx questa qui la posso scrivere come una serie la serie qua converge addirittura questo l'avevamo già fatto perché qua la serie convergeva totalmente però ci sono altri casi in cui la serie converge solo puntualmente e posso lo stesso con una dominante far vedere che posso fare integrare per serie semplicemente facendolo per serie e non sono costretto a farlo perché in questo caso non lo saprei fare no? perché la primitiva di questa funzione non è primibile come diciamo tramite funzioni relazionali va bene per oggi basta a id a no a a a a a a Grazie a tutti